Buongiorno, oggi è lunedì 23 settembre, sono le 9.38 e ho 7 minuti per andare a vedere che cosa mi racconterà la prossima candela del tecnica operativa di trading 2 su DAX e su MIB. Che cosa sta succedendo? Quello che avevo raccontato su DAX si è rivelato corretto, siamo andati in violazione di uno swing che fa partire come minimo un nuovo settimanale di inverso e stiamo continuando a scendere su questo canale dicensivo. Attenzione però adesso perché lato indice che cosa abbiamo? Abbiamo una discesa arrivata a 44 barre, questa è la 45esima e quindi stiamo aspettando un ok per il tecnica 2 per andare long per fare che cosa? Per andare a prendere un guizzo per la chiusura di che cosa? Del secondo ciclo giornaliero inverso e del secondo e del due giorni di inverso che dovrebbe dare la spinta per far partire che cosa? Un nuovo ciclo lato indice. Oltretutto ricordiamoci che se vai a vedere quella che è la centratura e l'analisi fatta nel weekend, questa qua e la trovi nella sezione live perché alcune volte appunto faccio gli interventi direttamente live, puoi andare a vedere appunto che cosa mi aspettavo su DAX stesso. Su MIB lo puoi andare a vedere come al solito disegnato sul grafico, aspettavo discesa ed effettivamente un po' di discesa arrivata, adesso bisogna vedere quanto si vuole rimbalzare, che swing è stato violato anche qui perché comunque abbiamo avuto appunto discesa, ricordandoci oltretutto qual è e se c'è un vincolo. Qui non abbiamo vincoli di sorta, mentre invece per quanto riguarda il DAX è un vincolo, ce l'abbiamo, se questo avrà confermato come secondo mensile di inverso e quindi andare long dopo una chiusura di settimanale può essere una cosa interessante. Ok? Sì, solo più cinque minuti. Appuntamenti della settimana. Ok, primo appuntamento della settimana, quello come sai sul canale di Swissquote con la nona puntata di Money Moves, quella in cui darò appunto tutti gli aggiornamenti sui mercati e la centratura su Bitcoin. Successivamente sai che c'è il webinar, sempre con Swissquote, durante il quale se ti iscriverai, perché bisogna tassativamente iscriversi per avere il seminario gratuito, potrai capire come gestire con l'analisi ciclica evoluta quelli che sono appunto i rischi nel trading, dove poter piazzare gli stop loss, di quale entità mettere appunto gli stop loss e tante altre cose a livello appunto di emotività e di gestione quindi dello stress da trading. Ok? Se sei interessato, mi raccomando, ti lascerò come al solito il link in descrizione o in uno dei primi commenti in evidenza sul canale di YouTube. Rimbalzo che si sconta per adesso per DAX sul media mobile, infatti stiamo aspettando la conferma, arriverà tra 4 minuti, vedremo se riusciremo ad avere un buon rimbalzo, perché qui abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per chiudere fino a che cosa? Con un ciclo giornaliero e un secondo ciclo giornaliero, entrambi i ribassisti, fino a un ciclo B settimanale, di due settimane. A noi bastava quello per un settimanale, quindi figuriamoci, ne abbiamo parecchie di considerazioni da fare, anche perché purtroppo invece gioca contro che cosa? Il fatto che la media mobile stia provando a darci ribasso andando in death cross, se non riusciremo a superare appunto a livello di prezzi sia la media mobile in blu a 200 periodi, che quella appunto in rosso, quindi vedremo, cautela, attenzione. Abbiamo ancora visto che cosa ha fatto Bitcoin dopo le tre streghe, quindi anche sui mercati finanziari sono passate, ma facciamo attenzione. Qui invece su MIB abbiamo ancora accenni comunque di determinate cose e più che altro abbiamo questo possibile raccordo tra T-1, tra l'altro qua è indicato in maniera sbagliata, rimettiamolo così, che mi dà dei dubbi, vero? Probabilmente ci sono anche delle centrature alternative oltre a quella che ho trovato, faccio fatica a trovarne una, ok? Oppure avremo la conferma di che cosa? Di un settimo T-3 in realtà iniziato da qui, settimo T-3 bizzarro perché è andato prima sotto il minimo assoluto, poi sopra il massimo assoluto per confermarsi ribassista, vediamo, in ogni caso, bel rimbalzo per quanto riguarda il MIB, vediamo se anche qui ci sono le condizioni per andare long e per andare long per la chiusura appunto del secondo T-3 ma anche del 2 giorni di inverso, siamo a 15 bar, come minimo mi aspetterei un rimbalzo fino alle 11.30-12 per arrivare alla durata minima di 24 bar, attenzione ogni tanto fa anche 23. Mi auguro di averti raccontato tutto, se il video ti è piaciuto metti un bel like e condividilo con le altre persone, sarà come una pacca sulla spalla per tutto il lavoro che viene fatto quotidianamente per fare training reale sempre su questo canale. Buon lunedì e buon inizio di settimana!